Velo ragazzi io sono Martex bentornati su un nuovissimo video mattutino Mi trovo qui all'interno dell'hub creativo perché devo comunicarvi una flash news Prima di tutto vi invito a passare questo pomeriggio in live perché aspetteremo assieme delle belle cosette Quindi assolutamente non mancate Sono qui perché a quanto pare tra pochissime ore questo mega hub di San Valentino Questo hub creativo verrà sostituito con uno nuovo a quanto mi han scritto Ragazzi miei per festeggiare il suo anniversario Ci saranno aree relax, stand fotografici e quant'altro Ma comunque sia non posso dirvi niente di più Quindi queste non sono altro che delle bellissime anticipazioni Su tutto ciò che riusciremo a vedere quest'oggi su Fortnite a partire da pomeriggio Premissima cosa alle ore 14 tutti quanti online perché verranno consegnate delle skin segrete All'interno del mio armadietto e quindi potremo ispezionarle in una maniera ben approfondita Tutti quanti assieme ma udite udite queste nuove skin usciranno due ore dopo nello shop giornaliero Quindi sì ragazzi lo shop si andrà ad aggiornare dopo due ore alle ore 16 Madò raga il refresh dello shop che tanto aspettiamo finalmente alle 16 Intanto mi sono beccato un po' di exp della modalità creativa finalmente ragazzi Non è finita qui però ragazzi perché avremo per la prima volta la scelta dell'emot in gioco Praticamente è la community a decidere tramite una serie di votazioni quale sarà l'emot E quindi il balletto da portare in gioco Credo nello shop giornaliero Attenzione queste votazioni cominceranno proprio oggi alle ore 16 E termineranno il 23 febbraio sempre ore 16 Attenzione attenzione altra cosa molto importante Si potrà votare per ben 5 volte ogni singolo giorno come già detto fino al 23 febbraio Nel mentre spero per tutti quanti voi che abbiate già riscattato il regalo da parte di Salve il Mondo Per tutti i possessori di questa modalità Perché i ragazzi hanno apportato delle piccole modifiche L'ho già spiegato ieri in un mini video sul canale ma lo ridico anche in questo video Adesso su Salve il Mondo si può accedere solamente tramite la selezione delle modalità di battaglia reale Quindi cliccando qui andando poi nella sezione di Epic qua giù E selezionando Salva il Mondo Avete ben capito ragazzi miei? E si clicca su giochiamo Fatto Io spero che tutti questi video mattutini vi piacciono e soprattutto vi siano d'aiuto Mi raccomando ragazzi miei l'unico modo per sostenere il canale al 100% E utilizzare il mio codice Martex nello shop giornaliero O è la tienda The Fortnite come preferiscono in tantissime Quindi negozi oggetti vediamo che cosa hanno droppato Ho visto una feed di Salve il Mondo lì in alto a destra Sezione di San Valentino Ok 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 Ieri dopo l'aggiornamento 19.30 hanno droppato anche il nuovo costume di Kira Quindi versione tutta bianca e rosa perché non me lo fa vedere il secondo stile Vabbè Lettera d'amore Eccola qui L'aspettavamo da qualche giorno Era l'unica skin ancora non uscita per quanto riguarda la sezione di San Valentino Rimbalzo lunare Madonna raga scommetto che questa non la vedevamo Seriamente da quando Dalla stagione X della stagione 10 capitolo 1 Da quanto non usciva Fai colpo serie di cone in cassaforte Ok E matematica avanzata Che audio Ok 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 E quindi un piccolo recap di quello che accadrà questo pomeriggio Ore 14 skin in anteprima all'interno del mio armadietto Vedremo ragazzi che cosa consegneranno Non ne ho proprio idea Non so che skin invieranno all'interno del mio account Lo shop giornaliero si aggiornerà alle ore 16 Quindi con 2 ore di anticipo avremo queste skin in live Cosa molto importante Sempre alle 16 ci saranno delle votazioni Tramite l'hub creativo di Fortnite Per portare in gioco un emote Non so proprio se si tratterà di nuove o vecchie emote So solo una cosa Sarà la community a votare E quindi decidere quale balletto portare su Fortnite Tramite una serie di decisioni quotidiane Che prenderanno piede fino al 23 febbraio Quindi ragazzi miei Tutti quanti sintonizzati sul canale Attivate la campanellina Se ancora non siete iscritti Iscriveggiatevi al canale Un salutone da Martex E come un saluto un bel What's up bro That's Un saluto un saluto un bel Grazie a tutti